che nessun figlio sia trattato come mezzo di ricatto. Lo ha detto Papa Francesco ai membri della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Bergoglio ha chiesto ai magistrati rotali di valutare con attenzione gli effetti potenzialmente disastrosi delle decisioni che investono il bene dei figli coinvolti nella separazione dei genitori. Sentiamo Luca Ciciriello. Non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione sulla nullità matrimoniale può comportare e l'invito che il Papa ha rivolto ai membri della Rota Romana il Tribunale Ordinario della Santa Sede ricevuti in udienza in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Al vostro Tribunale Apostolico, come anche agli altri Tribunali della Chiesa, viene chiesto che siano rese più accessibili e agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità, ha ricordato Francesco. La Chiesa è madre e voi siete chiamati ad aprirvi agli orizzonti di questa pastorale difficile, ma non impossibile, che riguarda la preoccupazione per i figli, quali vittime innocenti di tante situazioni di rottura, divorzio o di nuove unioni civili, ha spiegato il Papa, entrando nell'attività giudiziale. Spesso si pensa alla dichiarazione di nullità matrimoniale come a un atto freddo di semplice decisione giuridica, ma non è e non può essere così. Le sentenze del giudice ecclesiastico non possono prescindere dalla memoria fatta di luci e di ombre, che hanno segnato una vita, non solo dei due coniugi, ma anche dei figli. Coniugi e figli costituiscono una comunità di persone che si identifica sempre e certamente col bene della famiglia, anche quando essa si è sgretolata. Per il Papa non bisogna stancarsi di riservare ogni attenzione e cura alla famiglia e al matrimonio cristiano. In particolare è urgente che i collaboratori del vescovo, il vicario giudiziale, gli operatori della pastorale familiare e soprattutto i parroci si sforzino di esercitare tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale. Secondo Bergoglio il bene della famiglia va al di là del riferimento ai capi di nullità. Infine ha spiegato che non si può considerare l'essere famiglia come un bene sospeso in quanto è frutto del progetto divino, almeno per la prole generata. I coniugi con i figli donati da Dio sono quella nuova realtà che chiamiamo famiglia.